Internet Festival. Forme di futuro. Buonasera, signori e signori. Grazie e benvenuti alla terza e ultima puntata di Contatto. Allora, per chi non fosse stato presente ieri e l'altra sera, nelle prime due puntate faccio un breve riassunto. Innanzitutto abbiamo iniziato queste serate scientifiche, evocative, che riguardano poi il tema dell'informatica, con un test fra il pubblico. Abbiamo cercato di individuare, grazie all'aiuto del pubblico, la figura dell'informatico prima degli anni Ottanta. E allora ci siamo visti dire ed evocare l'ingegnere 45enne, con la divisa da una parte alla clerchente, gli occhialini, la camicia a quadretti e soprattutto maschio. Poi abbiamo cercato, grazie all'aiuto del pubblico, di individuare anche la figura dell'informatico negli anni Ottanta e dopo gli anni Ottanta. E ci siamo trovati davanti la figura del nerd, cioè del ragazzetto, genialoide, goffo, preso sempre in giro dai compagni di scuola, ma anche maschio. Allora, ci siamo chiesti se davvero la donna è così poco importante nell'informatica. E diciamo, queste tre serate devono servire a capire queste cose. Allora, veniamo quindi stasera ad un altro test che faccio insieme a voi. Ecco, stasera voi siete più fortunati perché si tratta di un test storico. Allora pensate, sì sì storico, pensate all'Inghilterra, fine dell'Ottocento. Siamo in Inghilterra, piove, è la fine dell'Ottocento. Qualcuno ha appena gestato le basi per l'invenzione del compito. Chi è questo qualcuno? Allora, lo voglio vedere, lo suggerite, lo voglio vedere insieme a voi, vedo già cosa pensate. Ecco sì sì, lo vedo, lo vedo soprattutto qui nelle prime file si pensa allo scienziato. Sì, lo scienziato sicuramente con la marzina, col pizzetto, magari un dottore pazzo alla dottor Caligari, e addirittura Victor Strank e Steyn, gli occhi spiritati. Avete pensato? Niente di tutto questo. L'idea del primo compiuto venne nella prima metà dell'Ottocento a Ada Lovelace, figlia di Lord Byron, dalle schede perforate dei telai metallici. E quindi una donna. Allora, ora, velocemente vi chiedo di avere e di effettuare con voi un altro test. Chi ha inventato il wireless? Allora, pensate, anche lì, facciamo il test. Vedo già cosa vi viene in mente, sempre l'ingegnere, questa volta il nerd, però un po' grassoccio, un giapponese, magari. Qualcuno ha pensato al giapponese. Niente di tutto questo. L'inventrice è Eddie Lamar, la famosa diva hollywoodiana. E quindi un'altra donna. La donna, la donna, la donna, la donna. Oh no! Si potrebbe dire citando il famoso figlio. Cos'è l'Eniac? L'Eniac è il primo computer digitale della storia, un computer americano al 100%. Allora, una superficie di 180 metri quadri, praticamente un mollo che è gigantesco, prende tutta una stanza ad azionare questo computer, a muovere le leve, pigiare i bottoni, attaccare le spine. Ci servono addirittura sei donne. Siamo ancora in presenza della donna. Quindi cerchiamo di capire, avete capito con me, che la donna è importante nella figura dell'informatica. Addirittura bisogna superare un po' questi luoghi comuni, perché, parliamoci chiaro, quando si pensa alla donna e al computer, viene in mente, intanto la figura, no? La donna, il computer, questo... Eh? Stato niente? Porno tu? No, è per dire, no? Uno per dire. L'altra figura della donna è quella della moglie, che arriva e allora cancella la cronologia della navigazione. Potremmo anche dire questo. Invece noi stasera vogliamo andare oltre questi luoghi comuni, questi falsetti. Presento, e sono un po' emozionato e anche imbarazzato nel farlo, i miei compagni di avventura, che mi hanno, diciamo, sostati con me nelle due serate. Ecco, li vedo già pronti, nel loro grande splendore. Ecco qua. Sedetevi al tavolo. Sì. Buonasera. 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 Diciamo che questi sono due medium, ma avete fatto bene a applaudirli perché ormai si sono sciolti, hanno ricevuto molte richieste di amicizie su Facebook, anzi, diciamo, hanno superato le 5.000 amicizie. Pensate che regole. Allora, ecco, con questi medium noi cercheremo di evocare la figura di qualcuno che è stato molto determinante nell'informatica. Nelle serate scorse abbiamo evocato Edi Lamare e poi la grande matematica ipatica d'Alessandria. Vediamo stasera, vediamo stasera chi avremo con lui. Io mi siedo con loro. Sono un po' emozionato perché questi poi entrano anche in trance. Ora li vedete così, ma poi entrano in trance. Sapeste che ho messo brutto che vanno entrando in trance? Ancora non sapete. Pare addirittura nello sport di oggi che lo stesso Gattuso si sia rivolto a loro per sapere le previsioni della vicenda societaria. Pensate come sono qua. Ci siamo? Magari una musica di sottofondo, le luci giuste. Magari una musica di sottofondo, le luci giuste, le luci giuste, le luci giuste, le luci giuste, le luci giuste. Si apre al dibattito. Quasi vuoi. Diciamo le frage giuste. Non voglio. Spirito femminio, noi te gopiamo e perciò le mani uniamo. Vuoi lasciarci insoddisfatti? Perché induci? Un colpo batti! Sentite il colpo? Non restarne l'aldilà! Aspettiamo tutti qua! Si risponda alla chiamata. Io coinvoco una scienziata. Oh, non lasciarci più in attesa! Ora che la linea è presa, parla forte, sii veloce, ti mettiamo in viva voce! Ecco, vedo giù. Certo qualcosa. Certo qualcosa. Certo qualcosa. C'è il fumo, ragazzi, c'è il fumo. C'è il fumo, ragazzi, c'è il fumo. C'è il fumo. Si risponda alla chiamata. Io coinvoco una scienziata. Si vede qualcosa tra il fumo. Ecco il trance. Chi sei? Amiraglio Grace Hopper, della Marina Militaria Americana. La signora Hopper, la grande matematica, programmatrice. Riposo, figliano, riposo. È un grande onore per la più. L'abbiamo chiamata, signora Hopper, dal regno dei morti perché stiamo affrontando questa discussione sulle donne e l'informatica. intendo il contributo di voi donne. Io credo che una risposta in qualche modo esista già. No, sì! Vabbè, lasciamo perdere. Ma la sua testimonianza può essere, come posso dire, di grande aiuto, signora Hopper. Bene, dunque, sono nata a New York da madre olandese e padre scozzese. Se pensi che l'informatica sia difficile, prova a parlare in inglese con un olandese e uno scozzese. Poi ne riparliate. A sette anni mi diedero un orologio sveglia che io smontai per capire come funzionasse. Mia madre, quando lo venne a sapere, mi vietò di usare il computer che io avevo appena inventato, me lo vietò per addirittura due settimane. e io sono stata una delle prime programmatrici dell'Harvard Mark I. Chiedo scusa per la pronuncia, ma da quando sono morta non mi vengono più bene. L'Harvard Mark I, uno dei primissimi computer costruito per scopi belgi. Oh, e come è finita a lavorare per l'Harvard Mark I? Anche lei è tanto bene nonostante sia... E' stato molto semplice, guardi, dopo aver preso il dottorato in matematica a Yale nel 1934 entrai nella riserva della marina americana del 1943. Nel 1944 ero a Harvard a lavorare al Mer Mark I. C'era da vincere una guerra, figliolo. Ma sì, sì, e l'avete vinta, eh? Avevi dubbi? No, no. Ah. Arra! Vai col fumo, ragazzo. C'è zio. Ah, quanti... Odio gli effetti speciali. No, vabbè. Dozzinali. Vabbè. Ah, quanti ricordi con quel computer. Avreste dovuto vederlo. Eh, ora sarebbe impossibile visto tutto questo fumo. Ci voleva meno tempo a parcheggiare la porta aerei Enterprise che a far partire quel dannato aggeggio. Comunque nel 1949 lascio Harvard e vado all'EM Corporation. Ah. E tre anni dopo butto giù il primo linguaggio di programmazione. i miei colleghi anziché ingegnero grazie a me e servirmi un buon bicchiere di whisky sai cosa mi dissero? lo sai cosa mi dici? No, me lo dico io. Me lo dico io. I computer possono fare solo calcoli aritmetici. Puh. Stronzi. Puh. Stronzi. Un paio d'anni dopo diveni direttrice e nel 1959 presentai il mio primo linguaggio di programmazione il COBOL. Ah il COBOL. Anche se c'è molta nebbia non disturbiamo la... Sdorinè mi porti quell'aggetto io non sopporto che ci si trastulli quando io sto parlando vedi da qua. L'avevo detto spingiamo i cellulari sempre spingi i cellulari scusi no prego però mi dà fastidia ci vengono anche quando l'ho inventato eh stia zitto andiamo avanti va bene andiamo avanti allora mi chieda mi chieda vuole sapere perché l'ho chiamato COBOL? Eh certo siamo curiosi siamo ci scervegliamo per capirlo eh e come dovevo chiamarlo ai grisi vabbè ragazzi quando io faccio una battuta si ride COBOL stava per Common Business Business Oriented Language vuol dire un solo linguaggio per tutti i computer per far fare loro tutto quello che i programmatori volevano fargli fare e come l'è venuta quest'idea? Eh voglio finita la guerra i vari dipartimenti ingaggiati dall'esercito non sapevano che farci di questi enormi calcolatori ma l'idea iniziale era quella di utilizzarli per riempire le stanze inutili della casa sapere spanderci nel mercato dell'arredamento di interni a presente e così ho pensato perché limitarmi ad occupare la stanza degli ospiti con una gigantesca macchina solo per dire a mia suocera che non la potevamo più invitare perché nella sua stanza ora tenevamo un unibap e allora perché non trovare il modo di dire ad un unibap non so di conquistare il mondo e rendere me la sua divina imperatrice cosa ne dite gli occhi no no è giusto va davanti però non risulta che abbia mai sottomesso il pianeta e sui volete non funzionò ha ragione non funzionò perché il mio programma aveva un errore un bacco sono stata io a capire per prima che i codici di programmazione potevano avere degli errori e decisi quindi di chiamarli letteralmente bacco ecco per esempio questa geogia ne ha all'interno almeno una ventina e guardi non mi ci sono nemmeno impegnata più di tanto era un troiale so che si usa questo termine in questi luoghi royale non vorrei mettessero il conto all'interno in pezzo no no andiamo avanti mi dica mi chieda no no giusto giusto lei è entrata diciamo che è la prima programmatrice ha inventato questo termine bug per indicare un errore nella struttura del programma figliolo io sono stata la prima di un sacco di cose un anno google mi ha dedicato pure un double double sembra non so ai miei tempi ste cazzate non si scrive io sono stata la prima a comunicare con i computer ecco per esempio se il vostro smartphone vi manda a quel paese lo dovete ammettere continuiamo con la sua storia nel 1966 andai in pensione dalla marina degli stati uniti ma veni richiamata in servizio qualche anno dopo così sali di grado e poi riandai in pensione nel 1971 ma un anno dopo mi richiamarono in servizio allora chiamai l'ammiraglio e gli disse ei non sono mica l'unica donna programmatrice in grado di guidare una corazzata era esattamente così così dovetti disdire le vacanze per la terza volta certo una bella scocciatura eh credo vuol dirlo forte eh mi toccò persi anche i soldi nella capanna comunque alla fine nel 1986 con il titolo di ammiraglio mi ritirai in pensione una volta per tutti avevo 79 anni e partì per le vacanze no fece un backup del mio cervello certo che partì per le vacanze era dal 1947 e non ne facevo una anche se il massimo del divertimento è stato quando nel 1999 vi siete messi in testa quell'idea del millennium bug io e il mio amico John Wayne ridiamo ancora ma John Wayne John Wayne John Wayne no qualche quanti ne conosce di John Wayne è quello scusi sbosinato pronto e questo è il futuro è tutto qui sì sì è certo lei è ventrice sì 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 che problemi ci sono ragazzi di come non riuscite ad andare su google ah no ma il cavo di rete è collegato al computer ok perfetto e quindi adesso dovete usare il browser fate doppio clic su quell'icona tonda che appare su non c'è e allora cosa vedi sullo schermo no non è così nemmeno un'icona cioè è tutto nero scusa ma il computer l'hai acceso ah non si accende allora guarda premi quel bottone in alto a destra quello dove c'è scritto paolo niente scusate ma lo avete attaccato alla corrente ah ecco va bene arrivo subito scusate devo andare sì no 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 però fatemi un favore me lo fate un favore in grande favore sì ci dica siamo a sua disposizione non mi chiamate più ah vabbè ammiraglio offre ammiraglio offre ammiraglio offre rimaniamo così fra noi cioè io rimango con questi due medi che mi hanno accompagnato siamo alla fine delle tre serate non so se abbiamo dato una risposta alla nostra domanda no ecco ecco sì purtroppo è andata così è andata così questi due signori sono ancora in trans qui ci vuole una mezz'ora 40 minuti prima che si svegliano dal trans quindi possiamo direttamente andare a cena cercavamo una risposta alle nostre domande non so se l'abbiamo trovato e comunque cari signori noi di contatti ci abbiamo provato grazie grazie a tutti grazie a tutti internet festival forme di futuro grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti